Ben ritrovati a tutti da Edoardo Ferrara di Trebimeteo a questo focus sulle nevicate previste sulle Alpi. Infatti in arrivo una perturbazione atlantica che finalmente riporterà la neve sulle nostre Alpi che sono a secco in questa stagione invernale decisamente nera almeno per ora. Quindi un'ottima notizia, andiamo a vedere le quote nevi previste nella giornata di venerdì quando è attesa la fase clou del maltempo e vedete che il richiamo di comunque più miti correnti meridionali favorirà quote nevi piuttosto elevate, in particolare sulla fascia prealpina la neve cadrà oltre 1300-1600 metri ma anche forse qualcosina di più sulle prealpi orientali. Quote neve invece più basse sulle Donomiti, la Cagna, il Trentino Alto Adige dove i fiocchi bianchi dovrebbero cadere mediamente oltre 1100-1400 metri ma tratti anche più in basso sulle vallate più strette. Quota neve invece più bassa sulle Alpi occidentali, vedete dal Piemonte alle Alpi rettiche, la neve potrebbe spingersi fin sotto i 1000 metri se non a tratti fin verso i 500 metri tra Val d'Aosta e Alto Piemonte. Gli accumuli previsti parlano di oltre 20-30 centimetri al di sopra dei 1200-1500 metri ma anche qualcosa di più tra Alto Piemonte e comparto retico. Oltre ai 2000 metri potremo superare anche il metro di neve fresca, quindi nevicate talora anche abbondanti. Comunque per tutti gli ulteriori importanti aggiornamenti vi rimando come di consueto al sito travimetro.com Grazie. Grazie.